Buongiorno, sono Natale Pepitone della Federazione Armatori Siciliani della provincia di Palermo. Ancora oggi la Sicilia non ha intenzione di cambiare, rimane legata al suo passato, alla mentalità del gatto pardo. Si vuole cambiare tutto, basta che non cambi nulla. Abbiamo la possibilità di ricevere e spendere i fondi europei per risolvere le problematiche che insistono nei porti dell'isola e non abbiamo la capacità di innovare le nostre infrastrutture. Abbiamo persone sbagliate al posto giusto che non comprendono che alla base dell'innovazione ci vuole la programmazione, la pianificazione, la progettazione ma soprattutto le competenze tecniche. In Sicilia non abbiamo un solo porto che risponda alla normativa epigenti. Abbiamo dei buchi realizzati non tenendo conto del corretto posizionamento rispetto ai venti e alle correnti marine. causando e generando problematiche. Non abbiamo impianti e infrastrutture all'interno dei porti in grado di alleviare le sofferenze delle marine locali, dei diportisti, delle stesse autorità competenti che devono garantire la sicurezza in mare. La Federazione Armatori Siciliani è stanca di essere presa in giro da una politica che gioca a scaricabarile, è stanca di avere interlocutori agronomi che vogliono occuparsi di pesca, è stanca di assistere alle responsabilità della regione siciliana, viste scaricare ad altri, al fine di trovare un colpevole che non sarà mai colpevole. La Federazione Armatori Siciliani ha chiesto più volte confronti con il Dipartimento regionale della pesca, mettendo gratuitamente le proprie professionalità interne per il cambiamento di rotta che porti benefici alla politica, le cui ricadute benefici di conseguenza ricadono sul nostro territorio. Questo la politica non lo capisce, perché non conoscono il lavoro duro dei pescatori siciliani, ma conoscono la comodità della poltrona e sparlano di quanto non conoscono. Realizzare progetti seri in un mese e in quattro mesi realizzare i lavori è pura fantascienza. Se vogliamo continuare a fare gli istruzzi, vedremo tornare indietro tutti i soldi destinati alla nostra terra e la Sicilia non se lo può permettere. Grazie.